Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, in missione a Buenos Aires in occasione degli stati generali dei corregionali dell'America Latina, ha avuto modo di organizzare, grazie all'associazione Giuliani nel mondo, un importante incontro tecnico con la vicepresidente Florenzia Scavino, il direttore generale Federico Prieto e gli architetti Eduardo Albanese ed Antonio Manulli della corporazione Antigo Puerto Madero, ente che si è occupato delle procedure per la riqualificazione, il recupero e la ristrutturazione dei magazzini del vecchio porto della capitale argentina, circa tre volte più esteso del porto vecchio di Trieste. Puerto Madero si sviluppa infatti su un'area di 170 ettari che sono stati interamente recuperati facendolo diventare il quartiere più moderno e turistico di Buenos Aires. Gli interventi sono iniziati nel 1998 e terminati nel 2014. Si è trattato di un'importante operazione sinergica tra pubblico e privato, avviata tramite un concorso internazionale cui hanno preso parte oltre 90 studi di architettura provenienti da tutto il mondo. L'investimento privato è stato di circa 2 miliardi di dollari e nel periodo dei lavori sono state occupate circa 3.000 persone. È stato molto interessante ed utile, ha aumentato di piazza a confrontarsi con questa società che ha gestito tutta l'operazione di riconversione di quest'area, molto più grande della nostra, ma altrettanto simile per posizionamento nei confronti della città e caratteristica dei magazzini. Interessanti anche le procedure adottate per la gestione delle risorse, il cronoprogramma degli interventi e le modalità scelte per la gestione dell'uso pubblico del patrimonio immobiliare. Conoscere direttamente le modalità di intervento pubblico privato e le procedure tecniche, amministrative e legislative adottate a Puerto Madero sono state molto importanti in vista degli interventi che ci apprestiamo ad avviare per il recupero del Porto Vecchio di Trieste.